L'Europa non è affatto il sogno di costruzione di un modello di coesione sociale finalizzato a tutelare i bisogni e gli interessi della popolazione. Il giornalista Paolo Barnard porta al Summit di Rimini cinque economisti di fama mondiale per analizzare secondo le linee della Modern Monetary School of Economics le cause dell'affossamento economico-democratico e occupazionale dell'Italia, soffocata dall'Europa dei tecnocrati. 33 milioni di nuovi disoccupati dal 2007 in Europa. 30% di giovani italiani senza lavoro 457 miliardi di euro sottratti all'Italia in tre anni Democrazia di fatto sospesa Più 40% di fallimenti di aziende italiane dal 2009 Il 76% degli italiani è costretto alla flessibilità Il Parlamento italiano esautorato dai mercati finanziari che dettano le austerità E tutto questo a causa dell'entrata nell'Eurozona Partecipa al Summit Tutti insieme Possiamo Possiamo Grazie a tutti.